Viviamo un momento storico dove le soluzioni tecnologiche presenti sul mercato sono molteplici e il settore plug and play e user friendly potrebbero sembrare in contrasto con la figura del professionista system integrator. La user experience è un valore determinante per il successo della soluzione. HDL non vuole certo contrastare questa tendenza ma crede che mai come in questo momento vi sia la necessità di creare soluzioni complesse e articolate che possano creare una solida piattaforma tecnologica dove poter integrare tutti i prodotti smart che si avvicenderanno nelle nostre mani. Col passare degli anni tutti noi acquisteremo un nuovo tablet, un nuovo pc, un nuovo smartphone o anche smart speaker ma il nostro sistema HDL sarà sempre lì nei nostri edifici a controllare illuminazione, comfort climatico, audio e sicurezza e ad integrarsi con tutti i nostri nuovi apparecchi smart. HDL anche quest'anno si presenta a Ise forte di 35 anni di esperienza nel settore dell'home and building automation confermando che le nostre soluzioni sono state un solido investimento per i nostri clienti. Tra le soluzioni che presentiamo a Ise in questa edizione ci vorrei segnalarvi alcuni prodotti in particolare, ad esempio il Coolbox Gateway che è una complessa centralina di termoregolazione che permette di interfacciare i sistemi di riscaldamento e climatizzazione e impianti home and building automation sia in Bass Pro che in Connex. Abbiamo poi dei nuovi pannelli touch con un design veramente molto performante di dimensioni varie in HD con interfacciamento utenti molto semplici e con delle facili personalizzazioni. Cosa dire poi abbiamo un prodotto Connex molto interessante che è un 48 dry contact che si tratta di un modulo a 48 canali in grade di essere performante e controllare molti più dispositivi. Poi alle mie spalle vedete la linea delle pulsantiere Tile e le nuove interessanti applicazioni per il settore residenziale e ospitality. In questi anni le nostre soluzioni Bass Pro e Connex sono state utilizzate e integrate da molte aziende di progetti di supervisioni audio video in vari settori dal residenziale all'hospitality agli uffici. Direi che la nostra specializzazione offre a queste aziende alcuni vantaggi competitivi che le imprese più generaliste non avrebbero. Una consolidata rete di distribuzione e assistenza durante la posa e il post vendita assicurano un risultato di successo e senza sorprese. Se poi poi vogliamo aggiungere a questo cinque anni di garanzia sui prodotti sicuramente raggiungiamo un ottimo risultato. Stiamo continuamente formando specialisti System Integrator per riuscire a fornire le giuste soluzioni e le risposte alle continue richieste del mercato. H2L pensiamo che sia la soluzione che dure nel tempo per un sicuro investimento tecnologico in tutti gli edifici.